Il nostro Paese, ma non solo il nostro, è terribilmente incattivito, rancoroso. Lo è nei confronti di qualsiasi altro non sia piacevole, non sia fortunato, non sia amico nostro. Qualsiasi altro è un essere pericoloso, guardiamo con sospetto anche la nostra ombra. E credo che le misure che sono state messe in atto da questo Governo, ma come da tutti i governi precedenti, non siano assolutamente all'altezza della situazione. Ma adesso è una grana grossa, se fosse stata presa in esame molti anni fa forse non saremmo arrivati a questo punto. Non si può pensare di risolvere questa situazione di milioni di persone che sono in movimento, che sono in disagio, evitando lo sbarco di 40 o 50 persone, ne prendo tre io, tre due l'altro. Cioè siamo un po' alla farsa, questo ce lo dobbiamo dire. Capisco anche che sia, cioè non credo che un dirigente politico di oggi abbia la capacità di risolverlo, però ci vorrebbe almeno la verità di dire, signori, qui siamo tutti di fronte a un grave problema e dobbiamo veramente tutti metterci nella condizione di risolverlo. Non credo che si risolva. Ma sinceramente, ecco, c'è un altro anniversario quest'anno, la caduta del muro di Berlino, 30 anni. E devo dire che eravamo chissà perché. A un certo punto il mondo ha pensato tutto che di essere felice insieme, no? Che qualcosa si esame. E qua invece stiamo ricostruendo i muri e non li abbiamo mai abbattuti. Non credo che questo faccia la felicità degli esseri umani.